hola lucio d'ores ben ritrovati dal vostro silver anche qui nel mese di novembre 2015 per ricordarvi e presentarvi i titoli presenti nel psn plus di questo mese e cominciamo da the walking dead episodio 2 un titolo che è un'avventura grafica basata sulla serie famosissima the walking dead incentrata sull'apocalisse zombie eccetera eccetera ma vi prego non fatemi raccontare che cos'è quell'enormità di walking dead nota anche chi non ha ancora visto nessun episodio della serie ma veniamo al gioco in brevis come detto è un'avventura grafica fatta di scelte raccolta oggetti bivi e via dicendo protagonista della nostra clementine o my darling clementine appunto protagonista anche del primo episodio che per furbata commerciale potremo comprare dal menu di questo secondo episodio non fatemi parlare in merito perché lo trovate veramente una cosa triste il primo episodio è notoriamente il migliore però anche questo è veramente veramente valido molto divertente molto dinamico molto maturo forse divertente non è la parola che lo descrive meglio perché genera sofferenza perché veramente le cose che succedono alla nostra piccola clementine danno quasi fastidio poverina perché si viene immedesimati l'atmosfera cattura subito e quindi le scelte fatte sono dolorose e fanno vivere a fondo questa cosa quindi un titolo molto molto interessante molto particolare che si divide tra un sistema narrativo abbastanza flemmatico che poi si contrappone agli attimi action veramente frenetici e con qualche jumpscare veramente veramente valido una cosa in cui la cosa importante qui sono le scelte e il gioco si ricorderà di tutto quello che faremo quindi io vi consiglio di scaricarlo come sempre l'altro titolo che vengo a presentarvi è dragonfin soap o soap un gioco molto particolare un progetto finanziato con kickstarter un titolo indie prodotto dai green brothers genialata nella genialata perché perché è un titolo basato sul mondo delle fiabe che mischia un po di leggende e cose appunto create dai fratelli grim che per chi non lo sapesse le fiabe originali non sono esattamente quelle che noi conosciamo tramandateci dalla disney ma sono cose molto oscure che terrorizzavano i bambini di quell'epoca e qui le cose sono state riportate in un action gdr con visuale isometrica il titolo è molto particolare io ammetto che vedendo le immagini dei giochi che sarebbero arrivati ero già esaltato l'idea di questo gioco che imbandola anche con ps vita nel senso che si può scaricare anche per ps vita e ero molto felice per i miei viaggi in treno poi però devo ammettere che ho provato il gioco allora innanzitutto la storia come condita da un forte da forti tinte di humor nero molto molto interessanti molto divertenti il personaggio principale è cappuccetto rosso ed è alleata di un lupo però è un'alcolizzata che ha una marea di debiti che non ha i soldi neanche per pagarsi cicchetti quindi deve fare la mercenaria per ripagarsi un po' i debiti che ha fatto in giro è una cazzona veramente mica male però spacca lì i culi troverà sempre dei fili alleati per strada e la strategia non mancherà la genialata del titolo consiste nel fatto che i livelli sono procedurali quindi voi inserirete il nome di un mondo e le mappe si creeranno basandosi sul sul nome che avrete scelto un po come succedeva in in worms a partire a qualche anno fa e molti altri titoli che poi hanno seguito questa cosa dell'input del nome per creare i mondi personalizzati l'altra figata pazzesca di questo gioco che sembra partire come uno zelda dei tempi d'oro è quella che usciti dal vostro letto usciti dalla vostra casa comincerete a spaccare roba per raccattare monete per trovare item e via dicendo se posso usare un termine tecnico e spero di essere capito pur usando termine tecnico qui sti cazzi nel senso che potrete spaccare tutti gli oggetti che volete ma guardate un po in alto a destra vedete benissimo la nostra simpatica cappuccetto rosso quando spacca roba si trova a pagare multe per atti vandalici quindi dovremmo stare molto attenti alle cose che andremo a spaccare per raccattare magari quattro monete in un vaso che dovremmo pagare otto di multa per aver spaccato quindi questa cosa all'inizio potrà sembrare divertente poi potrebbe creare anche qualche problema e potrebbe essere anche una svolta molto interessante particolare del gioco che terrei molto d'occhio è come cosa il il discorso è che giustamente imparata la solfa uno tende a non spaccare più roba però provateci in battaglia perché il problema di questo gioco è tutto qui il dinamismo in fase di battaglia allora innanzitutto la mappa non è estremamente leggibile diciamo il mondo di gioco si crea sotto i nostri occhi man mano che esploriamo si amplia la zona che andiamo a ad esplorare però abbiamo una mappa sempre fissa in alto a destra dello schermo che personalmente all'inizio ha generato più confusione che indizi e questa cosa è un piccolo neo logicamente poi la parte principale del gioco è quella action quella dei combattimenti in questo caso molto frenetici ma anche un po legnosi se devo muovere un appunto questo titolo è dato da quello ma va anche dato atto che bisogna prendersi del tempo per prenderci la mano e non è detto che questo tempo si abbia però se glielo si vuole dedicare il gioco si può appunto scaricare anche su ps vita quindi si può giocare anche fuori casa perché dico che forse è meglio giocarci fuori casa perché se siete a casa dovete giocare a qualcos'altro e indovinate un po alzate la marina e si è lì scritto non è difficile magica due allora piccola premessa piccolissima anzi due piccole premesse una io non lo conoscevo affatto l'avevo solo sentito nominare e il gesù dei videogiochi mi maledica per non aver mai messo le zampe su questo titolo che è qualcosa di fantastico ecco e ve lo dico ridendo perché un'ora per provarlo è stata una delle ore più divertenti della mia vita ecco detto tutto e voi direte che è un vita triste che ha avuto ma no sti cazzi voleva essere una battuta divertente la seconda premessa è mi raccomando all'inizio del gioco vi verrà chiesto di registrarvi e creare un vostro profilo per la paradox fatelo perché servirà per giocare in multiplayer per avere accesso online e vi garantisco che è una cosa molto utile la trama del gioco è qualcosa di da un lato elementare il mondo degli umani viveva in pace poi la guerra gli ignomi i nani i maghi e vi dicendo la stirpe dei maghi che proteggeva il mondo è stata decimata ma c'è una piccola fanciulla in una culla che pare aver ereditato tutto il potere vacante dei maghi e questa fanciulla individuata da un veggente che ha detto che si trova in un punto preciso eccetera 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 e un conte verrà a cercare noi grandi maghi dicendo vi ti narrerò una fiaba medievale che dice che non ci sono vampiri non ci sono assolutamente vampiri ma ci sono solo tanti maghi tanta magia vi dicendo la cosa un po strana è che il personaggio che ci racconta questa cosa per convincerci a collaborare si chiama niente meno che conte vlad e fra poco ve ne parlerò magari un attimino di più il mondo di gioco è delirante come potete già intuire da questo manichino dedito al masochismo che si fa menare e prova un piacere estremo nel farsi menare il gioco di per sé si basa appunto sui maghi quindi sulla magia e ce n'è veramente tanta questo è il tutorial e come vedete in basso a sinistra ci sono già tutti e otto gli elementi magici a nostra disposizione impareremo skill magiche le combinazioni fra le varie magie per dire potremo equipaggiare il fuoco per creare un incendio per tirare una fiammata con il nostro bastone magico per colpire i nemici per incantare la nostra arma moltiplicate questa cosa per otto gli elementi quindi avremo una miriade di azioni da compiere come se non bastasse come vedete il conte vlade a questo vampiro che appena ciucciato sangue da un cadavere ma ci ha detto che i vampiri non esistono quindi non ci sta usando vabbè torniamo noi la cosa fantastica di questa cosa che del governare questi poteri elementali è che oltre che essere molto dinamica e frenetica nell'utilizzo permette anche delle combinazioni fuori di testa potreste anche trovarvi a morire più volte per l'utilizzo delle magie che non per gli attacchi degli avversari perché le magie sono pericolose e questa cosa diciamo che ha della lore dietro e scusatemi se insisto su questo fattore però conferisce al tutto un'atmosfera molto divertente avremo poteri curativi come poteri devastanti poteri come il ghiaccio che ci permetteranno di costruire ponti sul sull'acqua però potranno anche creare trappole per i nemici potremmo scagliare pietre potremmo appunto curarci potremmo curare gli altri potremmo scagliare questo incantesimo che è morte che non solo farà morire in un lago di sangue i nostri avversari ma farà sì che esplodendo feriscano i loro compagni insomma una marea di poteri combinabili e ogni volta che noi premeremo un tasto corrispondente alla magia evocheremo un globo di questo elemento e potremmo concatenare un tot di globi per creare un potere ulteriore diverso o addirittura un potere che annulli il precedente per dire unire un incantesimo acqua con un incantesimo fuoco annulla l'incantesimo come detto bisognerà stare attenti perché si potranno anche incantare le nostre armi con questa cosa potrà generare morte istantanea per il nostro personaggio ma niente paura perché abbiamo anche il potere della risurrezione uno dei poteri più importanti del gioco molto facile da usare durante queste sessioni di principio un po meno quando le battaglie si fanno più frenetiche ma il potere è basilare quando si faranno le partite multiplayer perché servirà per far rinascere anche i nostri compagni di squadra quella fatina che vedete vagheggiare intorno al nostro mago è un famiglio una creatura che verrà evocata appunto col potere della risurrezione che si immolerà per farci risuscitare quindi sarà molto importante ricordarsi di avere sempre un famiglio attivo per avere garanzia di risuscitare in caso di morte e si morirà veramente spesso ma non sarà una tragedia sarà una cosa molto divertente in questo modo mondo assolutamente delirante dove potremmo ammazzare i troll ma come ammazzare anche la gente senza riguardo alcuno beccarci insulti fare cose sporcare posti distruggere tutto e raccogliere una marea di item ecco l'unica cosa che non ho ancora capito bene bene come si possono usare gli item perché ho raccolto tipo tuniche da stregone da incantatore bastoni di qui di là di su di giù ma sono riuscito equipaggiare sul bastone del giullare nel momento in cui ho raccolto qui poi smetto di ciarlare perché ho anche voglia di tornare a giocare eccovi presentato il fulcro della magia di magica 2 ossia le combinazioni degli elementi per creare qualcosa di più forte come vedete qui dovremmo combinare addirittura cinque elementi dovremmo combinare un elemento scudo con cinque elementi di magia e con quattro elementi di magia morte per creare una super forma di guardia che ci permette di superare anche le trappole più ostiche quindi c'è anche molta strategia oltre che al delirio molta magia e via dicendo quindi è un gioco che ha anche una sua tattica a me ha ricordato in un primo approccio baldur's gate i giochi appunto la diablo però con una personalità veramente forte delirante sarcastica dissacrante idiota fino al midollo e buttateci qualsiasi cosa nel secchio fatevi un favore scaricatevi magica 2 perché merita davvero tantissimo vi spaccherete da ridere e non voglio farvi quelle garanzie da televenditore anni 80 voi scaricatelo poi mi saprete dire cosa ne pensate io nel frattempo ve l'ho consigliato e adesso vi saluto perché me ne torno a giocare bellamente quindi ciao ciao grazie